Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Analisi Tecnica. Voglio andare a vedere sul mercato del Forex il cross euro-yen che ha fatto un parecchio parlare di sé, lo yen ovviamente, perché avrete sentito, la banca centrale giapponese ha deciso di applicare tassi di interessi negativi. È la prima volta nella storia dell'economia giapponese che questa decisione viene presa e questa manovra viene applicata. Il fine ovviamente è quello di far togliere la liquidità di investitori che possono investire soldi nell'economia piuttosto che tenerli fermi in banca. Questo è ovviamente quello che si vuole ottenere, quindi far circolare la moneta, creare nuovi posti di lavoro e dare un nuovo impulso all'economia giapponese. Nei confronti dell'euro è sempre stata piuttosto forte, quindi inizialmente qua parliamo del 2012-2013 c'è stata una grossa salita, quindi l'euro si era dimostrato molto forte fino a raggiungere il tasso di cambio a 150 nei confronti dello Yen, cosa che però è cambiata dal 2014 perché c'è stato questo grosso ribasso, vedete da qui stiamo intorno a fine 2014-2014 per tutto il 2015, o meglio per il primo semestre del 2015, poi c'è stato un piccolo impulso, un pullback fondamentalmente, adesso il prezzo sta di nuovo scendendo. E che cosa si è formato? Guardate, se guardiamo con attenzione quest'ultima parte, vedrete sicuramente che si è formato questo triangolo discendente, triangolo discendente che vede la base su questi minimi qua, triangolo discendente che è stato rotto con la candela del 15 febbraio, prezzo che però è tornato subito indietro nell'area di rottura, quindi intorno ai 127 per poi adesso essersi posizionato di nuovo al di fuori di questa base, di questo triangolo discendente. Adesso vediamo un attimo che cosa succede e vediamo soprattutto se questa soglia di prezzi in passato ha funzionato da supporto o da resistenza. Infatti così è stato, guardate ve lo segno per farvelo vedere, ma se guardiamo a sinistra che cosa si vede subito? Si vede che vedete il momento in cui, o meglio la soglia di prezzo su cui, il prezzo qui prima, e fatemi mettere la freccia così lo vedete, lo vedete sempre meglio, quindi qui una volta e qui la seconda volta ha usato questa struttura come supporto in questo caso, ma anche in passato lo ha usato come supporto, anzi in passato vedete che dopo questa salita il prezzo che cosa aveva fatto? Aveva formato una figura di analisi tecnica che si chiama flag, quindi una bandiera, proprio su questi livelli di prezzo, bandiera flag che era stato poi rotto con questa candela del 2013, prima nella settimana, nella prima settimana di aprile del 2013 e poi era iniziato questo grosso rialzo che aveva portato i prezzi fino a toccare i 150 per poi invece andare, cambiare completamente tendenza ed essere, diventare ribassista. Qui si era formato, o meglio si stava formando un test e spalla piuttosto brutto, vedete questa è la prima spalla, questa è la seconda, questa è la testa, dico brutto perché c'era stata questa rottura nella discesa della testa che ci farebbe, costringerebbe a creare una neckline davvero troppo obliqua, quindi nulla di fatto per questo pattern. Vediamo però, passiamo al giornaliere, vediamo che cosa sta succedendo su un time frame un po' più basso, ecco, vedete come qua il prezzo ha scominciato in questa sua tendenza ribassista, quindi primo impulso ribassista, pullback, pullback che si è verificato dove, proprio su, vedete, sulle precedenti strutture, quindi qua usate come supporto e qui usate come resistenza. Il prezzo poi ha continuato a scendere in maniera anche molto armonica, guardatevi, copio e incollo questa linea, vedete come il prezzo è sceso con la stessa profondità e velocità anche del precedente, questo era un ABC pattern, quindi questo ABBCCD, quindi un pattern armonico di analisi tecnica, e poi di nuovo un pullback del prezzo e ancora di nuovo, in maniera molto analoga alla precedente, un nuovo impulso ribassista, perché questi sono impulsi ribassisti, perché viene sempre rotto il minimo precedente, guardatevi, sto assegnando i minimi che piano piano vengono rotti. Adesso però il prezzo sta un attimo prendendo fiato, respirando, e infatti sta lateralizzando un pochino, perché dico che sta lateralizzando? Perché non ha più rotto i minimi precedenti, quindi non ha mai più rotto questa soglia di prezzo qua, che rappresenta anche intorno ai 122 e ai 121,50, rappresenta anche quella importante struttura che abbiamo visto nel passato aver funzionato più volte da supporto o da resistenza, quindi è interessante adesso vedere che cosa succederà a questo cross, e se il prezzo sarà in grado di o rompere questa soglia, e quindi continuare il suo trend ribassista, o viceversa fare che cosa? Continuare a lateralizzare, o terza opzione, invece tornare indietro e interrompere il trend ribassista che ha creato e che è andato avanti per veramente parecchi mesi. Quindi un cross davvero interessante da tenere nel radar, per oggi è tutto, noi ci vediamo nella nostra newsletter dedicata all'analisi tecnica con nuovi studi e nuove idee proposte che vi mando in email settimanalmente, se non siete iscritti potete usare il link qui sotto al video che trovate, buon trading a tutti, buona giornata e ci sentiamo presto, ciao!